Prima gara del nostro Alcide deve dimostrare, diciamo, che lui parte da favorito. La nostra stella emergente. 1-0, 2 minuti e 44, è un combattimento in casa, perché contro un Zankaku, nostro Davide. Il nostro Alcide adesso sta 2-0. Mamma mia, cinismo da parte di Alcide, 2 minuti e 26, 3-0. Questa nuova classe di giovani della Grizzly Power Team, che è cinica, ha voglia di fare. Alcide, dai Alcide, dai! Dai Alcide, dai Alcide! Perché si è fatto fregare con calcio da due punti, ha il viso, 3-2. Punteggio di 3-2, 1 minuto e 49. L'incontro di apertura di Alcide Bertocco. 4-2, 1 minuto e 40. I due si conoscono. 5-2, 1 minuto e 30. Il nostro Alcide lo sta studiando, è un po' timido, ma sa quando deve attaccare, che non ci sono santi. Un punto, è un punto forse. Nulla di fatto da parte dell'Ardio. 5-2, 1 minuto e 15. E ancora Alcide. Stesso punto, stesso cinismo, stessa rabbia. 6-2, 1 minuto e 6 secondi. Lo sta aspettando. E ci sta! Guardate la precisione con cui tira un colpo. Lo guarda. È una stoccata vincente. 7-2, 7-3. 53 secondi. 48 secondi. Nulla di fatto. Si continua. 7-3. Dai Alcide, dai Alcide, dai! Dai! 30 secondi, dai! E mi sono sgolato. Certi colpi presi per l'inesperienza. Ma il ragazzo promette bene. 7-4. 30 secondi precisi. Arrivano suggerimenti anche dal banco punti. Alle proiezioni. Ateveria Uomini. Un mire, se ricorda. Nel 61 cammini. Primo, il sposo di un mano. Il secondo, Scolpino Edoardo. Terzo, il terzo. E abbiamo Gianmarco. 11-4 signori questo è Alcide Bertocco 12-4, 3 secondi dalla fine 12-4 12-4, 12-4 la nuova classe il nuovo gruppo agonistico signori 13-4 il nostro gruppo promette bene quest'anno si è riformato un nuovo gruppo formato da persone come queste che vince e saluta il maestro il quadrice e porto là in stadio sul prossimo volentino hai visto? ti sei caricato hai cominciato